Gli occhi di centinaia e di migliaia di appassionati addosso, una pressione pazzesca per questa partita, la possibilità di salire sul trono d'Europa. Il calciatore è pazzesco, probabilmente il migliore al mondo, forse di sempre, di chi sto parlando? Bra! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!